Noi di Feller potremmo semplicemente continuare a fare quello che facciamo con successo qui in Svizzera da anni. Interruttori, prese e tecnologie intelligenti. A Orgen sviluppiamo e produciamo le nostre soluzioni innovative per edifici residenziali e funzionali. Ma vogliamo di più. Vogliamo semplificarvi la vita. Con Snapfix. Solo nove placche per tutte le installazioni. Con adattatore rosso per un inserimento a scatto e quattro fissaggi senza viti. Semplice per i progetti, rapido nei montaggi e compatibile con le nostre tre linee di design. Feller Snapfix, il nuovo sistema di fissaggio. Semplice per i progetti, rapido constituents. Grazie a tutti.